Non lo so, noi ci mettiamo sempre in quarta d'ora prima di cominciare a giocare, forse è un po' il piccolo limite che abbiamo noi, però poi comunque la squadra qualità ce n'è tanta, una bella squadra, forte quest'anno ancora più forte rispetto al passato, con l'andamento dell'anno insomma la squadra è anche diventata molto più matura rispetto a prima, a capire che in certe circostanze bisogna soffrire, bisogna saper soffrire, lottare e infatti poi è venuta la rimonta anche un po' sui errori individuali dell'avversario, però oggi loro erano molto bravi, molto forti, è stata una gran partita insomma. Ringraziamento a tutti i ragazzi a disposizione oggi, anche le persone che non sono scese in campo, per esempio Steven Veronesi che è venuto a lungo infortunio, sempre vicino al gruppo tutto l'anno, e diciamo che questa, io quello che provo a fare da già da due anni è far capire che qui dentro questa squadra non ci sono delle persone che sono più importanti delle altre, questo è un gruppo, deve essere tutto unito, anche il diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo uomo per noi è fondamentale e poi oggi l'abbiamo visto, perché insomma gli Aramuzzi in panchina, vestito, c'era Veronesi che non è entrato, insomma loro sono tutti importanti nel momento del bisogno, poi si fanno sempre sentire che sono fondamentali.